ATTENZIONE UNA O MAMMA AAAAAAAA AAAAAAAA DUE BIANCHE O MAMMA AAAAAAAA O MAMMA HA SMESSO DI RUSSARE TOCCA A TE HA SMESSO DI RUSSARE Ciao a tutti ragazzi siamo Reppy e Molly E oggi giocheremo a un gioco che non bisognerebbe giocare AAAAAAAA Colosso molla l'osso Oh mamma mia ragazzi Allora mi raccomando Prima di tutto dovete lasciare un super mi piace a questo video Perchè Reppy e Molly rischieranno la propria vita La propria mano soprattutto Ma prima di fare questo Ancora più importante E iscrivetevi ragazzi Che cosa state aspettando dobbiamo arrivare a un milione di iscritti E pian piano se la stiamo facendo Soprattutto grazie a voi Come sapete tutti voi ormai Noi abbiamo un gattino Che si chiama Max Ma oggi avremo a che fare Con un cagnolino Che si chiama Colosso E beh adora le ossa Oh mamma mia guardate quanto è cattivo Ragazzi ed è proprio qui Siiii Allora ragazzi A Colosso che è questo cagnolino tanto carino Beh non sembra tanto carino Non è molto carino Vabbè comunque Colosso dorme quasi sempre E russa anche più di molli a volte Ma cosa? Quindi si russa guarda vuoi sentire? Oh mamma Hai sentito? Ma sta russando Ma senti che roba Te l'ho detto che russa E quindi il gioco Sarà fare questo A turno dovremo girare la ruota Vedere le ossicina che capitano E con questa pinzetta Facendo molta attenzione Bisognerà rubarle dalla ciotolina di Colosso Perché ovviamente è troppo grosso E non molla l'osso Ah 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 Quindi direi di incominciare Scrivete qua sotto nei commentini Se conoscete qualche altro bellissimo gioco Che possiamo fare in un prossimo video E soprattutto se avete un cagnolino Fateci sapere qua sotto nei commentini Come si chiama Perché noi siamo curiosi Ma che sta stasera? Questo non è un cagnolino Questo è Max Eh signor Max 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 Ehi tutto a posto Ma come ti sei messo? Max ha paura di Colosso Allora ragazzi Max adora gli scatoloni Chissà in quale scatolone è finito Ma in questo Max Ma abbiamo un Max In una scatola No Ma dai ma non è possibile Cioè ma Max puoi uscire Max puoi uscire da qua ciccino Eh Max ascolta Ti abbiamo comprato Una fantastica ruota solo per te C'è ruota Più che altro questa l'hai distrutta Perché Max è diventato troppo grande Non ci sta più qua dentro E comunque c'ha il suo ruotino Dai lascialo giù poverino E lui vuole stare nello scatolone Bene ragazzi Proviamo a lasciare il nostro Max proprio qua Ma guardate Ma si è addormentato Max vuoi stare qui? Max Max è tutto bene Lui si diverte a stare qui Ma perché Max ti piace tanto questa scatola? Max Ma ragazzi ma è al testo in giù È al contrario Vabbè dai cominciamo Rabbi Inizio a te No 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 Non inizio io Si 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 Facciamo sasso carta forbi Va bene sasso carta forbi Si Ok Allora comincio io o cominci te? Eh puoi scegliere hai vinto tu Cominci te No dai Max tutto ok allora? Max a testa in giù perfetto Ok Allora Quindi Attenzione attenzione Prima deve russare Sta russando Sta russando Sentite O è Max che sta russando Ovviamente ragazzi Vincerà chi riuscirà a collezionare più ossa Ok Vai Gira la ruota Quindi Giriamo la ruota Che osso devi prendere? Uno Uno giallo Allora ce la devo fare Mi fa ridere Max Non ridere Max Ma non lo vedo Max Giralo dai Ma perché sta così? Ma perché Max sta così? Ok Vai Allora se prendo uno succino Ce l'ho fatta Ok Ce l'ho fatta Max lo vuoi tu uno succino? No mi sa che non lo vuole No direi che non gli piace Ok allora questo lo metto qui Facciamo due giri a testa? Ok Vado eh Oh Ok questo che cos'è? E nel mezzo si ritira Si ritira Vediamo un po' Due ossa bianche Due ossa bianche Vai ragazzi Questo sarà complicato Shhh Uno Ah Ok due No Ha smesso di russare Ha smesso di russare Ok ha ricominciato Ok Due sè Ok Molli tocca a te Ok è arrivato il mio turno e lui sta russando Oh mamma Vediamo Due verdi Due verdi Vai Molli Colosso fai il bravo eh Attenzione Attenzione Una Una Oh mamma 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 Ragazzi Ragazzi ovviamente la rebby ha sbagliato le regole Ma cosa non è vero Il cagnolino non deve star così perchè è russa ma deve stare così Stai giu bello stai giu ecco così perchè fa la guardia alle ossa ragazzi Sta dormendo Guardate ragazzi Colosso sta dormendo Avevamo sbagliato a mettere colosso Vabbè bravo A tre modalità colosso Quindi poteva stare anche nell'altro Vai Osirò Due zalle Una Attenzione non sta più uscendo Bravo Ti direbbe vai Due testa avevamo detto Ok uno verde Preso Ok Vai Reby tieni Gira Ok quindi allora Queste sono le ossicina di Molly Vediamo Ok una gialla Colosso non svegliarti No una Dai Reby che lo svegli Guardate com'è concentrata Una gialla Ritira Guardate com'è concentrata Due bianche Due bianche Oh mamma Questo è difficile Si è svegliato Si è svegliato Oh mamma Per un velo fortuna Che avevo le pinzette Hai preso paura Eh si ho preso paura Allora sta uno pari Ok ok Allora adesso tocca a me ricominciare Allora colosso tu devi tornare a dormire Colosso devi tornare a dormire Ma in tutto ciò Max dov'è? Max si è spaventato ed è andato via Eccolo lì Max Max Non avere paura di colosso Ok ragazzi ci riprovo Allora sta uno pari Per me Molly Oh Due No uno Due blu Non variamo Due blu Ok Però Ma questa vince tutto Bisogna arrivare a tre Ma non è vero Ah è vero bisogna arrivare a tre Arriviamo a cinque Uno blu Uno preso Oh mamma mia Lo stai svegliando Ha spesso di russare ragazzi È brutto segno Oh mamma Attenzione colosso Ti muovi Ma sono in basso quelle blu Muoviti Sono caduti Oh mamma Allora Prendile prendile Deve rimettergli le ossa lì dentro Arrivo Non mi metterla fredda Ok Svegli colosso Sei pazzo Non voglio che il cane mi mangi una mano Attenzione Ok Direi che ci sono Ci sei? Un altro? Un altro vuoi farlo Tre No uno Uno verde Uno verde Vediamo Dai che tocca a me Sono fantastico Ok tocca a me Ok tocca ancora te Veloce devo muovermi No vabbè Oh mamma Due blu Come faccio? Ah sono in cazzo No Molly ha presso di russare Sì Devo far veloce Ok Un altro Ok No si rifà Due blu No Una verde Aaaaaaah Ma vallami Maledetto Mi ha ferrato Mi ha ferrato Ragazzi Non cercate A quel pezzetto No Colosso Amor Ma hai visto che mi ha Guarda Sono tutto rosso Oh mamma Ma è pazzo Fa malissimo E direi che è molto affamato Quindi lascia stare il cane Quando dorme Ehi detto Molly Allora uno Due Ok Devo recuperare Ok ragazzi Ok vado eh Tre Ok ragazzi Si è rimesso a dormire Due verdi Oh mamma E chi ti ha detto che potevi iniziare te? Ne facciamo due questa volta Ok va bene Poi Vai Due blu Si rifà Due blu Due blu Vai Oh mamma Non ti svegliare colosso Ho spesso di russare Ok Tocca a te Raby Tocca a te Ho spesso di russare Shhh Facciamo piano Bravo Peccolino Dormi Dormi Io non lo accarezzerei Fossi in te Due blu Due blu Ho smesso di russare Raby Ho smesso di russare Ok Ok Attenzione Non svegliare il cane Che dorme Oh mamma Ok Oh mamma Una Queste sono le tue Poi Due Due Un altro giro Un altro giro Mamma mia che ansia Uno verde Uno verde Svegliati Cagnolino Svegliati Però sono riuscito a tagliare la mano in tempo Ti stava per mordere Che paura A questo gioco non mi piace Mi mette troppo ansia Raby sta a due pari Quindi La bella Inizio io Ok ragazzi Questa è la bella Devo assolutamente vincere Quindi Giriamo Sì 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 Non me rompa Due Due Ancora due Perché sempre me Due Dai sbrigati Che dopo si svegliano il mio turno Due Due Ok Secondo giro E sono salva Ancora Non vale Dai 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 Due Due di nuovo Uno Ti prego Svegliati Cagnolino Due Due Sì Ok tocca a me Ho fatto Devo muovermi Devo muovermi Due verdi La molla Perché mi afferra sempre la molla Ma devi stare attento Basta Cattivo cagnolino Cattivo cagnolino Povero colosso Le hai rubato le ossa Per quanto si è arrabbiato Ragazzi questo gioco Ma guardate Fra poco mi esce il sangue addirittura Ragazzi questo gioco a me fa veramente paura Speriamo che vi sia piaciuto E mi raccomando Scrivete qua sotto Se conoscete qualche altro gioco incredibile Direi che a noi Basta un gattino Per il cane Aspetteremo un altro po' Mi sa Ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto E noi ci vediamo presto In un nuovo fantastico video Ciao Ciao